Dai una botta di colore alla tua vita! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un sorriso che va oltre questo lato qua, proprio un sorriso a tutto corpo, a tutta anima perché è finalmente arrivata tra le mie mani la prima copia del mio nuovo libro Il grande libro del colore, ve lo presento, edito da Gribaudo che ringrazio enormemente per la fiducia che mi ha accordato nell'avermi chiesto di scrivere un secondo libro il primo è lui, il ricettario dell'arte, non dimenticatelo perché è essenziale da avere ma questo, a differenza di quello, non è rivolto solamente a chi vuole sporcarsi le mani questo è rivolto a tutti questo è il libro che parla di un po' di tutti noi è il libro che parla del colore e ognuno di noi ha in sé del colore tra queste pagine potrete scoprire e capire i colori che muovono e fanno muovere la vostra anima è un libro in cui ho cercato di spiegare il colore a tutto tondo dedicando questa trattazione non soltanto a chi usa il colore per mestiere o per hobby ma anche a tutti coloro che quotidianamente fruiscono il colore senza neanche rendersene conto e sì, perché il colore fa parte della nostra realtà e molto spesso lo facciamo nostro e ne subiamo le influenze senza neanche renderci conto bene, qui è spiegato tutto è spiegato questo, è spiegata la vostra propensione verso un colore piuttosto che un altro è spiegata passo passo, in maniera molto meticolosa la teoria del colore qualcuno mi ha chiesto ma c'è la ruota del colore? sì, ma non è la solita ruota del colore è una ruota del colore spiegata per filo e per segno c'è la teoria del colore, ve lo faccio intravedere ve lo faccio intravedere c'è la distinzione delle varie nomenclature tinte, tono, saturazione tutto spiegato guardate qui c'è veramente tanto e oltre una grafica spettacolare che veramente mi ha entusiasmato e ha esaltato enormemente il mio lavoro c'è tutta una parte dedicata alle palettes quindi alla formulazione di palettes per individuare quelle che sono delle atmosfere vi faccio vedere vedete queste palettine? bene, corrispondono a delle atmosfere particolari quindi se voi vorrete ricreare un'atmosfera attraverso l'arredamento attraverso un disegno, attraverso una foto andate a cercare la palette che fa per voi che ne so, una palette speziata oppure tropicale oppure marinara per andare a beccare proprio il colore giusto per fare veicolare il vostro messaggio in più ho voluto fare qualcosa di realmente, realmente difficile ho voluto condurvi con la manina alla realizzazione di tutte le tinte i colori sono trattati uno per uno il bianco, il nero, il rosso, il blu, il giallo, il verde e via discorrendo adesso non ve li sto dicendo nell'ordine in cui li troverete nel libro ma questo è e per ogni colore prendiamo per esempio i viola vi ho fatto con una leggenda in cui vi spiego come prendere le quantità le quantità di ogni singola tinta con i colori acridici quindi se vorrete ricreare per esempio questo colore vi basterà prendere intanto vi dico il nome che è Punch, questo rosa quindi il nome di ogni colore e poi una punta di bianco tre quarti di rosso un decimo di giallo e queste misure le trovate esattamente all'inizio di questo capitolo proprio indicate visivamente ora vi faccio vedere perché è stato un lavoro ragazzi che non potete immaginare voi le vedete qui stampate torte ordinate guardate qui ci sono le misure uno, mezzo, un terzo e via discorrendo potrete così creare con le quantità indicate in scala uno a uno tutti i vostri colori vedete quello che adesso vedete qui stampato così su carta su una carta tra l'altro simile alla carta dei fogli da disegno non ho voluto la carta lucida patinata perché non volevo che il colore venisse viziato dalla stampa dalla bellezza della stampa ho preferito una carta più simile a dei fogli comuni per farvi proprio assaporare quello che è il colore ma come potete vedere vi avvicino vedete ogni colore che vedete sul libro non è un colore stampato dall'editore sono pennellate che ho dato io su delle tavole su delle tavole cromatiche che poi ho spedito e il reparto della grafica ha fatto una pulitura e una selezione di tutte di tutte le tinte quindi tutte le tinte che vedete qui sono tinte dipinte da me è il mio pennello che le ha dipinte poi sono state campionate una per una e questo per ogni colore presente anche quello della tavola per esempio anche quello della della ruota cromatica tutte queste palette sono tutte dipinte una ad una quindi è tutto reale tutto vero come siete abituati a vedere qui sul canale beh che dire è un libro che mi ha molto coinvolta è un libro dove c'è molto da leggere a differenza del primo che è un elenco di ricette intervallato da qualche mio pensiero qui invece è veramente un libro da compagnia da lettura un libro che spero alla fine dia una nuova consapevolezza a chi lo legge è un libro che dedico ad Enzo tanto è importante il suo contenuto leggerete la dedica che ho scritto al suo interno se vorrete ho voluto concentrare qua dentro tutto quello che penso e che ho imparato sul colore ed è un libro che parla molto di me parla molto di come io veda la vita e come io vedo il colore e la consapevolezza che mi ha donato questo immenso strumento che è il colore il colore ci rende vivi e il saperlo gestire e il saperlo capire ci rende vivi consapevolmente quindi io vi aspetto dal 7 novembre in tutte le librerie con il grande libro del colore ve lo faccio vedere un po' dentro apro qualche pagina a caso così lo andiamo a vedere sì c'è la trattazione delle opere ho scelto un'opera per ogni colore poi vediamo cosa sono questi questi sono i significati dei vari contrasti come nella realtà fotografica di illustrazione vengono usati contrasti cromatici così apriamo random ti piace l'arancione? ti spiego cosa significa se ti piace l'arancione così di ogni colore poi guardate il grigio ci sono tutti anche i non colori poi vediamo vediamo l'energia che proviene dai colori vediamo vediamo la teoria del colore proprio nuda e cruda insomma è un libro molto completo e poi alla fine una lunga trattazione su quello che è il colore dal punto di vista reale dal punto di vista come la scelta del colore può cambiare uno stato d'animo che sembrano banalità ma se si controlla lo strumento colore divengono un potente mezzo non quando non tanto quando stiamo bene perché quando stiamo bene siamo restratti da tante cose ma quando stiamo male il colore può diventare un alleato prezioso bene vi aspetto in tutte le librerie vi aspetto numerosi conto sul vostro supporto a Natale regalate il grande libro del colore è un regalo che potete fare a tutti ma quanto costa? 18,90 e ora lo trovate anche in sconto in prevendita su Amazon mi pare che c'è uno sconto del 5% quindi con meno di 20 euro fate un regalo davvero bello garantito da chi l'ha scritto è un regalo colto un regalo non noioso ve lo assicuro ci sono anche dei giochi come possiamo dire interattivi dove voi dovete rispondere poi ci sono le risposte alla fine del gioco un gioco sui colori molto molto divertente andatelo a sbirciare in libreria fatevene un'idea tenetelo tra le mani e dopodiché vedrete che non potrete fare a meno di acquistarlo per il vostro Natale coloratelo il vostro Natale regalando tanti tanti di questi libri aiutate Ombretta a crescere aiutate l'editoria aiutate la cultura a diffondersi e soprattutto fate un regalo che non sia una forma consumistica e basta ma che sia anche qualcosa di più mi raccomando vi aspetto in libreria numerosi naturalmente con questo ma non dimentichiamoci del primo genito non facciamo come quelle mamme che quando nasce il secondo figlio vedono il figlietto lì nell'angolo da solo che piange naturalmente se volete fare un regalo più grosso regalate anche il ricettario dell'arte che è andato appena appena in ristampa tanto è stato gradito da chi lo ha comprato quindi i miei gioiellini vi aspettano in libreria e io vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo grazie ragazzi perché questo è soprattutto un merito vostro è scritto anche qua dentro andate a cercare che c'è scritto ci siete anche voi qua dentro vi aspetto dal 7 novembre in tutte le librerie e naturalmente su Amazon in preordine sin da adesso vi lascio tutti i link qui giù se non avete una libreria vicina e mi raccomando a Natale un Natale super colorato con ombretta e il grande libro del colore grazie a chi mi onorerà della sua lettura voglio tanti feedback voglio sapere cosa ne pensate dopo averlo letto mi raccomando non mi resta che salutarvi ringraziarvi e rimandarvi al prossimo video da ombretta e da arte per te è tutto grande libro del colore alla prossima ciao ciao